è stato per partire ciao Massimo ciao buono benvenuti da Massimo eeeh Massimo la pazzetta come sono partiti mamma mia non capisco chi è il primo è subito una notte spettacolare non sappiamo per chi qui lo dà il deduccio lo vediamo prova ad avvicinare questa telecamera perché veramente è qui il deduccio al comando mamma mia e qui iniziamo a vedere le posizioni che motore muona la staccata di Ferruccio vediamo la staccata vediamo la staccata ah si impunta bravo Matera con gli acido mamma mia Ferruccio vuole scappare si si Ferruccio si è messo l'antica lo vediamo da questa inquadratura attenzione a Sandro Acelli che guarda tutto da dietro ma chi c'è subito dietro a Matera vuole attaccare Ferruccio qui attenzione che staccata Matera ci prova all'esterno mamma mia lotta serratissima cosa stanno facendo attacchi esterno Ferruccio chiude la porta si si è chiuso attenzione bella lotta ancora esterno con fuori la Matera tutto all'esterno Matera dentro ah gomitata bravissima stiamo provando ma il culmone si stanno sparaccato mamma mia e tanto ti vuole il Sandro che lotta ma ancora stiamo difendendo l'erba bravo di Nardo con la cozza di lo sotto di Nardo di Nardo e Minutilli 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 vuole i punti vuole andare a punti mamma mia ma intanto ci stava perdendo il duello dentro che fredata mamma mia ma dove ha staccato dove ha staccato ma Ferruccio è ancora davanti che lotta ecco lì attenzione ha tirato dentro anche Simone Cappoli intanto Ferruccio nel pezzetto di rettivio attenzione potrebbe andare a e li congiunge si fa oh staccato all'esterno ma è staccato all'esterno la lunga dentro Ferruccio Ferruccio bravissimo il pilota giovane purtroppo questo sole il pilota latino non riesce a far vedere bene bella lotta a tezzone che Cappoli già si avvicina e sta gara secondo me si deciderà al foto finish vedremo c'è di tanto come entra si ma attenzione qui davanti guardate quanto sta attaccato attaccati mamma mia ti staccherà più no ma esterno esterno Ferruccio non va siamo Ferruccio Ferruccio chiude tutte le porte sembra l'ultima gara dell'anno scorso la lotta tra i due tra i due incredibile Ferruccio che se no non c'è non c'è più nessuno e qui intanto guardate all'esterno Madera dove finisce è finito un po' a lungo qui è un po' più veloce grazie al suo bim che è cortissimo il telaio vediamo come si lui il primo preparatore Marcello Gaffoni ha preparato una moto oggi spettacolare veramente mamma mia che lotta davanti vediamo a minuti è abbastanza minuti delidio delidio guarda è sul dritto quanto gli prende minuti nell'esterno sul dritto tanto ancora davanti Arceli Arceli sta facendo una gara pazzesca tenendosi dietro un mastino di nome Matteo Madera stasca bene mamma mia Ferruccio vuole la vittoria ma sarà dura durissima all'esterno mamma mia vediamo se Caponi lo sentia qualcosa ancora vediamo qui guardate i traiettori di Madera Madera bravo Ferruccio Madera guardate il curvone Madera all'interno non va è stato Caponi ancora la vittoria non è già metodo su mezzo peccato in realtà non è stato più lottano capito Sandro Marcelli primo nel mondiale 80 bravissimo mamma mia di tanto eh Benutilli fa sgombare il suo corsadino mamma mia davanti c'è in questo momento Di Nardo guardiamo Di Nardo Di Nardo davanti a Benutilli cammina tantissimo è una coltrista vediamo come la svernicia Benutilli Benutilli guardate com'è accucciato intanto davanti sempre il tuo compasso da Ferruccio e Matteo Madera con Madera che ci sta provando in tutte le maniere prova settori è più larga è più limpide ma bravissimo per Lucio attenzione sono bravissimi i commissari di gara sì i commissari stanno dicendo che è penalizzazione penalizzazione per qualcuno bandiera nera mamma mia madera madera ma lo picchia lo picchia davvero davvero capponi stavolta è meno così ha guadagnato un secondo e tre quarti di giro è il pilota il più veloce in pista sì è lui è tanto bella gara di Sandro ma ditta con il suo bontano vediamo di nato dietro a Minutilli no è indoppiato no è indoppiato no è indoppiato per la terra attenzione perché di nato ha infilato Minutilli mamma mia di nato ha una percorrenza in curva che sembra Arnold Arnold Svarsenegger vediamo sul resto Minutilli a stallo a stallo a stallo e il video sto per finire ciao